Buonasera a tutti, siamo qui nello stand Wind3 di Viaggio Berti del piazzale Mille Campi dell'Angelo Finalmente si apre una nuova serata, entriamo nel club, nuove squadre, nuove partite, nuove competizioni Spero di vedervi, venite a trovarci al nostro stand dove potete trovare la super wifi, il modem 5G della Wind3 Venite qui da noi, vi comunichiamo la password e potete gratuitamente trovare la super rete wifi Wind3 Viaggio Berti vi aspetta, siamo tutti lì ad aspettarvi, iniziano le vere competizioni della settimana A proposito di DIG volevo presentarvi il mio caro amico David Recati, numero 1 grande calciante che è venuto a trovarci, che è un grande calciante di parte verde e con la sua scuola E' un po' ex, dai diciamo ex però, senti hai qualche idea del prossimo anno, trovati iniziativa nuova da portare qui a piazzale? Io vorrei portare il ring e far avvicinare i ragazzi non solo, sono dei sport bellissimi, calcio, basket, fatti al mondo, adesso andate a più girando e rivalutando sempre il mondo e vediamo se si può montare il prossimo anno, magari poi si fa dei match il sabato, il sabato sera, si fa dei match in blu, e così si fa dei match in blu, a tutta la gente, tutte le persone si fa dei match Quindi sei vitticante di come organizzatore? No, no, io sono io almeno ragazzi, insomma esco, voglio fare solo quello però a volte mi tocca anche un paese organizzatore perché è così via insomma la cucinistia a San Giovanni ha un grande staff, ha il nostro amico è qui accanto a me che ci dà la mano, ci aiuta, ci supporta sempre quindi siamo carichi, carichi sempre Dato mezzo anche la tua canzone Dato mezzo anche la tua canzone Forza Viola Forza Viola sempre? anche se chi ci sta riprendendo non è più foda della viola bisogna dirlo, bisogna dirlo è un'eccezione Senti, dici due, facci due commenti sul calcio storico di quest'anno che ne pensi? Penso che i Verdi, vanno per la mia squadra i Verdi sono vicini al giudicare il Superneo ci sono stata una crescita esponenziale dei ragazzi durante questi ultimi anni e io penso che siamo vicini Complimenti a tutti e quattro i valori che comunque onorano Firenze sempre scendendo in campo che non è facile e a creare le porte per me ti scende sempre da ciò Forza Venti, Forza Puglia di San Giovanni Forza Guite 3 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 Vi aspettiamo, mi raccomando venite a trovarti viaggio per di 120 euro e grazie Veniva bene? Sì, questo è bellino